L'ASBUC di Paganica, tramite il suo presidente Ferdinando Galletti, sul tema della seccità fa un appello al prefetto di Vincenzo affinché riesca a convocare un incontro con il consorzio di Bonifica per affrontare in un tavolo il tema dei disagi che subiscono gli agricoltori a causa dei disservizi nella gestione delle acque irrigue. Nel mirino dell'ASBUC ci sono i lavori alle perdite lungo gli argini del fiume Vera, ormai conclusi ma che per Galletti non hanno risolto il problema e la difficile situazione degli agricoltori, ma soprattutto l'ASBUC chiede che il consorzio li ascolti e li renda partecipi delle decisioni, anche alla luce di fondi che ci sarebbero per portare avanti dei progetti. L'acqua, ribadito il presidente Galletti, è un bene troppo prezioso che non va sprecato. Ogni anno è di più, questa è una cosa che dobbiamo un po' pensarci bene per far sì che non sprechiamo né acqua, né prezioso liquido che in tutto il mondo penso si stia ponendo questo problema. Noi abbiamo fatto un appello al profetto perché il consorzio ci ha ignorati completamente, abbiamo chiesto un incontro come ente, come ASBUC, Pagani e San Gregorio, perché noi siamo stati eletti dal popolo e attinenti a noi l'agro-siv pastorale. Quindi stiamo sul tema e dobbiamo farci sentire, ma con forza, forza perché il consorzio ogni anno ha fatto, in precedenza ha fatto promesse e comunque non ha risolto mai il problema. Il problema è che questo prezioso liquido, che è l'acqua, viene, come si dice, sprecato perché non ci stanno i canali di irrigazione. Gli adduttori principali dell'acqua, come il Vera, sono massacrati, un colabbroto totale e quindi la gente poi lirica perché non può irrigare, non può coltivare quel poco terreno che c'è rimasto. Noi vogliamo il recupero dell'acqua del fiume Vera e di quant'altro adduttori ci sono intorno a noi, con il recupero invernale, bacini che possano servire tutta la valle, cominciando proprio da forza, sotto. Noi non ci tiriamo indietro a niente, purché partecipiamo alle scelte che per il futuro dobbiamo fare.